Duro attacco del WWF a Bruzzo dopo il video diffuso in rete di un'orsa con il proprio cucciolo inseguita da un'auto a raccaraso. Un video che ha provocato sconcerto perché l'animale appare stressato e impaurito alla ricerca disperata di una via d'uscita. Un comportamento sbagliato e pericoloso perché può mettere a repentaglio l'incolumità degli animali e le persone. Il WWF rilancia così il suo appello ricordando i comportamenti da tenere in caso di avvistamenti. Ancora oggi si assiste ad azioni errate e prive di tutela degli orsi. Sul territorio evidentemente manca ancora una coscienza davvero accogliente nei confronti di questa specie. Un caso analogo si registrò a Pescasseroli quando qualche anno fa un'altra orsa con cucciolo al seguito fu inseguita da una vettura con il risultato dell'allontanamento di un cucciolo dalla mamma. Il WWF ha inteso così riproporre uno spot che aveva lanciato da tempo con un testimonio ad eccezione Germano D'Aurelio in arte induccio. L'attore e cabarettista abruzzese ha prestato il suo volto all'associazione del panda per diffondere a un pubblico sempre più ampio un messaggio di tutela e rispetto. Incontrare un orso si sa è un'emozione unica ma bisogna godere di quella meraviglia stando lontani senza inseguire l'animale senza dar cibo senza volere insomma scattare a tutti i costi foto e video ma nell'era dei telefonini sempre più spesso si assiste a un imbarbarimento in questo senso. L'associazione sta investendo risorse raccolte con la campagna Orso 2x50 proprio per la salvaguardia di questa specie al fine di creare una convivenza possibile tra uomo e orso. Nell'ambito della campagna vengono forniti recinti elettrificati ad agricoltori e allevatori che possono subire danni, si interviene per mettere in sicurezza infrastrutture pericolose come le vasche in montagna o le strade, si organizzano campi di volontariato e giornate di sensibilizzazione.